in una sera di primavera jean stava per sposare suo cucino jacques si conoscevano sin da bambini e l'amore non assumeva tra loro le forme cerimoniose che ha in genere tra la gente erano stati allevati insieme senza che passasse loro per la testa che si amavano la fanciulla un po civetta faceva in verità qualche innocente moina al giovanotto lo giudicava carino inoltre è un bravo ragazzo e ogni volta che lo rivedeva lo baciava con tutto il cuore ma senza un brivido senza quel brivido che sembra increspare la carne dalla punta delle mani alla punta dei piedi quanto a lui diceva tra sé semplicemente è graziosa la mia cuginetta e pensava a lei con quella specie di intenerimento istintivo che un uomo prova sempre per una bella ragazza le sue riflessioni non andavano oltre poi ecco che un giorno jeanet udì per caso a sua madre dire alla zia alla zia alberta poiché la zia leson era rimasta zitella ti assicuro che si ameranno subito quei ragazzi è una cosa palese quanto a me jacques è assolutamente il genere che io sogno e immediatamente jean si era messa ad adorare il cugino jacques allora era arrossita vedendola la sua mano aveva tremato nella mano del giovane i suoi occhi si abbassavano quando ne incontrava lo sguardo e faceva storie per lasciarsi baciare da lui tanto che gli sarà accorto di tutto questo aveva capito e in un impeto nel quale c'era tanta vanità soddisfatta quanto affetto vero aveva serrato tra le braccia la cugina mormorandole all'orecchio ti amo ti amo da quel giorno in poi era stato tutto un tubare un dirsi parole tenere eccetera una manifestazione di tutti i complimenti amorosi che la loro intimità passata rendeva disinvolti e senza soggezione in salotto jacques baciava la fidanzata davanti alle tre vecchie le tre sorelle sua madre la madre di jean e la zia lison passeggiava con lei loro due soli per giorni interi nei boschi lungo il fiumicello attraverso le praterie umide nelle quali l'erba era costellata di fiori di campo ed esse aspettavano il momento fissato per la loro unione senza impazienza troppo viva ma avvolti avviluppate in una tenerezza deliziosa assaporando il fascino squisito delle insignificanti carezze delle dita serrate degli sguardi appassionati così lunghi che le anime sembrano mescolarsi e vagamente tormentati dal desiderio ancora incerto dei grandi amplessi sentendo come delle ansie sulle loro labbra che si chiamavano che sembravano spiarsi attendersi promettersi talvolta quando avevano passato tutto il giorno in quella sorta di tepidezza appassionata in quelle platoniche tenerezze avevano la sera come una spossatezza strana ed entrambi facevano profondi sospiri senza sapere il perché senza capire sospiri gonfi d'attesa le due madri e la loro sorella zia Lison guardavano quel giovane amore con sorridente entenerimento la zia Lison specialmente sembrava tutta commossa a vederli Costai era una donnina che parlava poco sempre schiva non faceva mai rumore compariva solamente alle ore dei pasti risaliva poi nella sua camera dove restava chiusa continuamente aveva un aspetto semplice vecchiotto lo sguardo dolce e triste e non contava quasi nulla in famiglia le due sorelle che erano vedove e che avevano figurato nella buona società la consideravano un po' come un essere insignificante la trattavano con una familiarità disinvolta che celava una sorta di bontà un po' sprezzante per la zitella ella si chiamava Lise essendo nata nei giorni in cui Beranger regnava sulla Franza quando avevano visto che ella non si sposava e non si sarebbe probabilmente mai sposata da Lise l'avevano fatta diventare Lison ora era zia Lison una umile linda vecchietta spaventosamente timida persino con i suoi che l'amavano ad un affetto che partecipava dell'abitudine della compassione e di una benevola indifferenza i ragazzi non salivano mai a baciarla in camera solo la domestica penetrava nella stanza di lei si mandava a chiamare per parlarle a malapena si sapeva dove fosse situata la camera quella camera dove scorreva in solitudine tutta la sua povera vita ella non occupava punto o spazio quando non c'era non si parlava mai di lei non si pensava mai a lei era uno di quegli esseri schivi che rimangono sconosciuti persino ai parenti stretti quasi inesplorati e la cui morte non lascia il minimo vuoto in una casa uno di quegli esseri che non sanno entrare né nell'esistenza né nelle abitudini né nell'amore di chi vive accanto a loro camminava sempre a passetti frettolosi e muti non faceva mai rumore non urtava mai niente sembrava comunicare agli oggetti la proprietà di non emettere alcun suono le sue mani sembravano fatte di una specie d'ovatta tanto maneggiavano leggermente e delicatamente quello che toccavano quando si pronunziava sia li son queste due parole non suscitavano per così dire alcun pensiero nella mente di nessuno era come se si fosse detto la caffettiera o la zuccheriera la cagna Lut possedeva certamente una personalità molto più spiccata tutti la vezzeggiavano continuamente la chiamavano mia cara Lut, mia bella Lut, mia piccola Lut le avrebbero pianta infinitamente di più il matrimonio dei due cugini doveva essere celebrato alla fine del mese di maggio i giovani vivevano con gli occhi negli occhi le mani nelle mani il pensiero nel pensiero il cuore nel cuore la primavera tardiva quell'anno esitante che sino a quel momento aveva rabbrividito sotto le brinate chiare delle notti e il fresco nebbioso delle mattinate era esplosa allora all'improvviso alcuni giorni caldi un poco velati avevano smosso tutta la linfa della terra schiudendo le foglie come per miracolo e diffondendo dappertutto il buon odore il languidente delle gemme e dei primi fiori poi un pomeriggio il sole vittorioso acciugando finalmente i vapori fluttuanti era dilagato splendendo su tutta la pianura la sua luminosa gaiezza aveva riempito la campagna era penetrata dappertutto nelle piante, negli animali e negli uomini gli uccelli innamorati svolazzavano sbattendo le ali si chiamavano Jeanne Jacques oppressi da una deliziosa felicità ma più timidi del solito turbati da quei rimescolii nuovi che entravano in loro con il fermento dei boschi erano rimasti tutto il giorno fianco a fianco su una panca davanti alla porta del castello non osando più allontanarsi soli e guardando con occhio vago laggiù sul laghetto i grandi cigni che si inseguivano poi venuta la sera si erano sentiti placati più tranquilli e dopo cena si erano appoggiati coi gomiti alla finestra aperta del salotto chiacchierando a bassa voce mentre le loro madri giocavano al picchetto nel chiarore rotondo formato dal paralume della lampada e mentre la zia Lison sferruzzava calze per i poveri del paese un'alta alberata si stendeva in lontananza dietro lo stagno e tra il fogliame ancora minuto dei grandi alberi la luna all'improvviso si era mostrata essa era poco a poco salita attraverso i rami che si stagliavano sul suo globo e arrampicandosi nel cielo in mezzo alle stelle che offuscava si era messa a versare sul mondo quel chiarore malinconico nel quale fluttuano albori e sogni tanto caro a chi è intenerito ai poeti e agli innamorati i giovani dapprima le avevano guardata poi tutti imbevuti della dolcezza tenera della notte del chiarore vaporoso dei prati e dei cespugli erano usciti a passi lenti e passezzavano sul grande tappeto d'erba bianco sino al laghetto che luccicava quando ebbero terminato le quattro partite di picchietto di ogni sera le due madri addormentandosi a poco a poco ebbero voglia di coricarsi bisogna chiamare i ragazzi disse l'una l'altra con un'occhiata percorse l'orizzonte pallido dove le due ombre erravano pian piano su via, lasciali e la rispose si sta tanto bene fuori Lisanne li aspetterà, vero? Lisanne? la zietella levò gli occhi inquieti e rispose con la sua timida voce certo li aspetterò e le due zietelle se ne andarono a letto allora la zia Lisanne si alzò a sua volta e lasciando sul bracciolo della poltrona il lavoro cominciato la lana e il grosso ferro da calza andò ad appoggiarsi coi gomiti alla finestra e contemplò la notte incantevole i due innamorati andavano senza fine attraverso il prato dallo stagno alla scalinata dalla scalinata allo stagno si stringevano le dita e non parlavano più come usciti fuori di loro stessi mescolati alla poesia visibile che esalava dalla terra già in un tratto scorse nell'inquadratura della finestra la figura della zietella disegnata dal chiarore della lampada guarda e la disse la zia Lisanne ti osserva Già calzò la testa si replicò la zia Lisanne ti osserva e continuarono a sognare a camminare lentamente ad amarsi ma la guazza copriva l'erba ebbero un leggero brivido di freddo torniamo a casa ora e la disse e tornarono quando essi entrarono nel salotto la zia Lisanne si era rimessa a far la calza e la aveva la fronte e china sul lavoro e le sue piccole dita magre tremavano un po' come se fossero state stanchissime Jeanne si avvicinò zia noi andiamo a dormire ora la zietella volse gli occhi erano rossi come se avessero pianto Già che la fidanzata non vi badarono ma il giovane si accorse che le sottili scarpe della fanciulla erano tutte coperte d'acqua fu preso di inquietudine e domandò affettuosamente non hai freddo ai tuoi cari piedini e all'improvviso le dite della zia furono scosse da un tremito così forte che il lavoro le sfuggì di mano la matassa di lana ruzzolò lontano sul pavimento e nascondendo rapidamente il viso tra le mani la zietella si mise a piangere con grandi singhiozzi convulsi i due ragazzi si precipitarono verso di lei Jeanne in ginocchio le scostò le brazza sconvolta ripetendo Che hai Zia Lison? Che hai Zia Lison? Allora la povera vecchia balbettando con la voce tutta molle di lacrime e il corpo rattratto dall'accuramento rispose Oh! Quando lui ti ha chiesto Non hai freddo? Hai tuoi cari piedini? Nessuno mi ha mai mai detto cose simili a me mai Mal